Il convegno di corse di giovedì 2 marzo e prima corsa riservata ai gentlemen proprietari. Sono 7 al via, 1 Uragano Spritz, 2 Twitter di Casei, 3 Blue Light, 4 Zingaro Gad, 5 Creso Risaia TRGF, 6 Bacco Baccio, seconda linea, 7 Zaira dei Veltri. In chiusura è Creso Risaia TRGF numero 5, il favorito Matteo Zaccherini in sediolo, parte piano proprio Creso Risaia e per il comando è subito Zingaro Gad che riesce ad avvantaggiarsi. Contro Twitter di Casei che lo segue bene lungo la corda, mentre è partito forte anche Bacco Baccio che cerca di ricavarsi il posto in scia magari al battistrada, ma il posto non c'è in questo momento e quindi è costretto a rimanere al sediolo del leader che completa i primi 200 in 14,5. Quarta posizione, terza lungo la corda per Uragano Spritz e poi gli altri con in coda Blue Light. Intanto Zingaro Gad l'ha messa sul ritmo, 29,6 per corsi esterni, ora c'è anche Creso Risaia TRGF che è in schiena a Bacco Baccio. In terza posizione Uragano Spritz davanti a Zaira dei Veltri. Gruppo chiuso come detto da Blue Light, i 600 se ne vanno intanto in 46, ma c'è l'errore di Creso Risaia, che finisce così squalificato, Zingaro Gad dunque al comando, completa i primi 800 in un minuto e quattro decimi, in seconda posizione rimane sempre Twitter di Casei, mentre retrocesso anche Bacco Baccio, in terza c'è Uragano Spritz che precede Zaira dei Veltri, il chilometro se ne è andato in uno 16,1, siamo a poco più di 500 dall'arrivo con gruppo sempre incolonnato, con all'esterno soltanto Bacco Baccio, però in fase calante, out il favorito e così a 400 dalla conclusione Zingaro Gad in vantaggio, è seguito praticamente dal solo Twitter di Casei che ne tiene per il momento la scia, gli altri nettamente più discosti, dalla coda Blue Light prova a sprintare, i primi due hanno preso un netto margine di vantaggio con Zingaro Gad che allunga ancora nel finale, prende tre lunghezze di margine da Twitter di Casei, si allunga e vince con estrema facilità, il successo per Zingaro Gad che è netto primo sul palo, secondo posto per il numero due Twitter di Casei, al terzo chiude Blue Light avanti agli avversari, il successo quindi per Elena Bruniera che con Zingaro Gad in perfetto percorso d'avanguardia porta segno primo vincitore della giornata per conto di Alessandro Raspante e della scuderia Alele. Rivediamo le battute conclusive con Zingaro Gad che non ha problemi fin dal via, conquista il comando e poi si allunga bene nel quarto conclusivo, chiudendo bene bene bene, davanti a Twitter di Casei che perde il contatto sulla finire della curva conclusiva, terzo posto di spunto per Blue Light. Grazie a tutti.